Nasce l'Augen Rind, l'innovativa filosofia culinaria che vede l'utilizzo di prodotti locali per la preparazione di cibi ad alto livello. Vediamo il servizio. Cucinare velocemente con prodotti locali di alto livello. È la filosofia seguita da una cinquantina di agricoltori e un macellaio innovativi della Val d'Ultimo, della Val di Non e della Val Venosta che hanno sviluppato ragù, fondi di cottura, Würstel Frankfurter e gulasch che possono essere usati sia per la preparazione di pietanze che per uso privato e la gastronomia ad alto livello. Si tratta di prodotti del cosiddetto Laugen Rind, ovvero vitelli da latte e bovini allevati ai piedi delle Monteluco in Val d'Ultimo esclusivamente con latte materno e che pascolano rigorosamente sulle malghe d'alta montagna. Noi avevamo il problema di fare la lavorazione sui tagli migliori, perché sul banco non c'è il problema, ma sulle carni migliori c'era questa cosa. E poi la mia idea è fare un Camin Wurz con sale marino, senza sale nitriti. Abbiamo provato diverse cose, poi siamo riusciti a fare questa cosa, il cliente ha apprezzato molto. Dei 50 masi che fanno parte dell'iniziativa Laugen Rind, una quindicina produce seguendo i criteri dell'agricoltura biologica. Per tutti invece l'obiettivo è unico, ossia commercializzare oltre alla carne fresca anche prodotti gourmet a lunga conservazione provenienti da carne pregiata. Garantire la qualità dei prodotti significa innanzitutto garantire la sicurezza, la salute dei consumatori e fare in modo che vi siano prodotti anche a filiera corta, quindi realizzati sul territorio, che non necessitano di grandi trasporti per essere consumati e distribuiti. L'innovazione non è solamente fare delle cose nuove, l'innovazione è appunto anche trovare sempre un modo migliore per fare le cose che abbiamo sempre fatto fino ad oggi. L'iniziativa inoltre è volta alla creazione di un punto d'incontro fra i prodotti delle aziende agricole della zona, comprendente le valli d'Ultimo, Non e Venosta. Prodotti pregiati a base di carne vengono quindi realizzati in loco e preparati dai ristoratori della zona all'insegna della massima genuinità.